Un saluto come state ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi e iscrivervi a lasciare un like qui sotto. Prima di partire vi consiglio di fare un giro sul sito che c'è qui sotto per tanti prodotti, regali di calcio, vedete questa bella felpa del Brasile, ci sono i calzettoni, ci sono anche pantaloni, insomma di tutto e di più. Qui sotto appunto trovate il link, avete il 10% di sconto. Allora ragazzi, clamorosa la dichiarazione di Paolo Maldini che parla sei mesi dopo il suo esonero, diciamo così, licenziamento. Minan senza amore rispettate la storia, ne ha per tutti, ne ha per Cardinale, ne ha per Furlani, ne ha per Scaroni, ne ha per Moncada dicendo che non era d'accordo con l'acquisto di Tonali. Quindi di fatto difende Pioli in qualche modo, dice va ringraziato, ma dargli i compiti che esulano dei suoi lo renderà sempre più solo. Quindi contesta il fatto di averlo comunque promosso come manager e lo vede oggi troppo solo. Effettivamente manca una figura vicina a Pioli, una figura di campo. Contesta il metodo degli algoritmi, non c'è bisogno di questi per prendere l'Oftus Cic, Pulisic e Ciucquezze. Dice che lottava per avere un impianto più grande rispetto alla capienza che aveva previsto il club. Su Scaroni dice che era in prima fila per lo Scudetto, ma quando Minan pareggiavo perdeva, andava via prima dallo stadio per evitare il traffico. Io non avrei mai ceduto Tonali, che Moncada appunto non voleva. Mi contestarono dei Ketelare, ma un ragazzo così giovane la percentuale di successo è alta. Leao, Benasser e Teo non piacevano. Insomma, di fatto Maldini disintegra il nuovo Milan in un momento delicato. Qualcuno contesta forse giustamente la tempistica, perché in questo momento questa frase rende ancora più complicato il momento. Dall'altra parte, credo che ci sia anche stata una situazione contrattuale che prevedeva per sei mesi di non parlare. Tanto è che lui diceva, ho dovuto discutere anche dei miei diritti. Situazione incredibile che alimenta ovviamente una discussione in un momento molto delicato. Voi da che parte state rispetto a questa intervista? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. E fate un giro anche sul sito Felp e tante altre cose come questa. Molto bella qui sotto. Un saluto! Scriviti al nostro canale.